ok vi avviso che c'è il lag si ok perché stanno avendo alcuni problemi i server quindi penso che ci sarà un po di lag sicuramente un po davvero tanto anche perché mi sono connesso nel server australiano sì e quindi naturale che sia anche lag ma è anche la colpa del server dell'hosting penso sì sì stanno avendo vari problemi penso sì anche perché fra un po metteranno i 48 slot a tutti spero che arrivi presto quel giorno però adesso ne hanno già messi ne hanno in azione giusto per provarli e per provare se laggano io ora sono in quei dei 24 però attendiamo sperando che funzioni naturalmente se continua a lagare così non vedrete questo video se state guardando questo video significa che ha smesso di laggare e ciao ok forse ok continuo a premere sul vuoto non ci credo ho superato il lag sono stato più veloce del lag assurdo perfetto un lingotto di ferro sarebbe stato più figo però diamante perché è più difficile da trovare anche se però è più facile trovare diamante perché casuale ora speriamo che lagghe di meno visto che la gente comincia a sloggare visto che muore bello una casa di redstone ore e dai dai ora vediamo se la partita è godibile la metto se no non la metto giustamente giustamente guardiamo guardiamo tutte queste case sperando di trovare qualcosa sperando di trovare un tesoro nascosto vediamo qui su mi è parso di vedere qualcosa e ciao niente c'è anche sotto eh no andiamo sotto giù lì non c'è niente oh shit sapete mi ricordo tanto io sono leggenda il diario niente non ciò vuoi di leggere sì lo so quindi forse mi farò perdere una cesta cesta pazienza non ho voglia di leggere queste ci sono già entrato a posto entriamo in questa ok qui dovrebbe esserci qualcosa perché salgo sul tetto dovrebbe eccola la allora andiamo in questo devo cercare di non distruggere le scale perché sennò dopo sono fregato ok ok perfetto ottimo ok ok c'ho l'arco quindi siamo a un buon punto però vorrei una un'arma per gli scontri ravvicinati sono uno stronzo sono caduto ah chiude la porta figo una doppia porta c'è una porta con dentro una porta blindata port ception door ception ok andiamo dopo aver detto questo posso anche nascondermi e quello la se riesco ad ucciderlo mi riterrò fortunato per tutta la vita però non lo vedo se entrasse in casa sarebbe molto più comodo da uccidere visto che lo blocco dentro e dopo può andare solo avanti o indietro shit andiamo avanti dai non lo vedo più mangiamo un po' eh però il lag è insostenibile eh ho dovuto per forza registrare visto che non ho fatto video quindi ho dovuto per forza costretto vediamo qui che cacchi ci faccio con un music box un blocco musicale mmm nada massimo posso uccidere i nemici facendogli ascoltare Justin Bieber baby 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 oooh e così tutti cadrebbero per terra droppandomi tutto ecco mi sono neanche accorto che i biscotti non li ha mangiati per i lag se se la mia se la mia se il mio cervello non mi confonde cioè se la mia memoria non mi confonde qui c'è una cesta bla 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 chiudo e guardo è uno stupido flint se seguo questa autostrada trovo una workbench penso si 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 di la eccola però non mi serve per ora una fabbrica wow non me la ricordo che ci fosse qui una fabbrica l'avranno appena aggiunta visto che aggiungo ma va ma questa roba qui non c'era o forse c'era me lo confermate che c'era la fabbrica? cioè c'era un edificio qui ma non era così figo e anche la non c'era quella torre figa cacchio devo andarci andiamo fin su anche se non vedo non trovo niente voglio andarci lo stesso intanto deadmatch fra 25 minuti cioè se però mi sembra stanto che qui non ci sia andato nessuno visto che è un posto molto vistoso massimo butto qualcuno con le frecciate cioè con l'arco e speriamo yeah ok forse il video sarà un po' laggoso mi dispiace non posso farci niente ok prepariamoci e oh non c'è nessuno devo stare attento che qui sotto non c'è l'acqua profonda eh e questo è un problema visto che come faccio per questo chest no lì è ok si 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 ah no c'è l'acqua quasi ah no c'è 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 ok che bello ho trovato un bel po' di roba eccellente eccellente ora devo andare qui sopra potrei trovare dell'altro fantastico mettiamoci la spada allora mettiamo un po' di ordine anche mmm boh basta quindi da qui posso vedere tutta la città beh quasi visto che ho la grafica su normal perchè sennò mi lagga cioè voi dopo vedete che lagga ma comunque a me lagga quando registro cioè quando gioco posso mettere anche far che va a 100 fps il problema si presenta quando devo registrare se io non fossi uno che registra questo computer per me andrebbe benissimo per minecraft perchè va velocissimo quando gioco e mi diverto da solo guardate che figo la lì ecco la o lì non mi ricordo dove la ecco la in quella macchina blu c'è una chest comunque possiamo scendere come avete visto ho fatto bene a salire oh la c'è una chest la avete visto? si che avete visto mettete 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 le soluzioni in hd cioè mettete cose in hd ah è la dove ero salito bene le salgo e vado nella chest ottimo ottimo direi ottimo direi ottimo direi ok ok no non ho voglia di fare il giro vediamo se riesco a saltare si sono un pro scherzo ok dai nessuno deve averla vista questa chest ecco nessuno ecco come vi avevo detto se avevo un lingotto di ferro era meglio andiamo nella macchinina blu là c'è un'altra chest no è una botola ok andiamo a vedere qui dico un po' troppe volte ok e allora è vero? devo smetterla ecco facciamo un giro e andiamo nella macchinina blu la mia bella macchinina dan 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 ciu puiu puiu comunque mi confermate se queste cose quell'hanno appena aggiunte visto che io non le ho mai viste ecco anche la che è vicino allo spawn c'è una chest che hanno già visto secondo me comunque non sto trovando nessuno cioè diciamo sono messo bene però preferirei essere messo meglio visto che ora molta gente sarà equipaggiata benissimo vediamo dentro la macchina blu come pensavo ok allora tutto questo arco di mappa nessuno ha visto cioè non ci sono passati allora andiamo verso di là visto che c'è là una casetta in mezzo alla foresta c'è una specie di monastero, monumento qualcosa, c'è un posto strano dove c'è sopra una chest tipo l'ingresso per la cioè tipo un posto dove c'è la roccia e la spada di Excalibur sì una cosa del genere però c'è una chest preferisco una chest che una spada di Excalibur il tuono penso che sia provenuto da destra ma non ne sono sicuro saliamo su meglio visto che se la por da sotto potrebbe venirmi qualcuno alle spalle e pam che cacchio almeno c'ho tante frecce usiamo l'arco a gogo proprio non preoccupiamoci che finiscono le frecce in che cosa mi sono messo sta arrivando notte ok la luminosità è a metà visto che avete detto che sono l'unico youtuber cartina è bassa mettiamo la metà per non essere originali seguiamo la massa anche se vabbè si è molto meglio giocare così a metà non esita visto che meglio meglio niente dai andiamo allo spawn e facciamoci uccidere si perchè sarà sicuramente ci saranno due persone sicuramente o massimo ce ne sarà una che aspetta le refile del chest potrà arrivare anche nel momento in cui le chest ricaricano e vado di spada dietro e lo attacco e lì dovrai vincere sicuramente all'80% dovrai vincere massimo adesso lo attacco uso l'arco non c'è nessuno non c'è nessuno che lo sa oh si che c'è eccoli se la smettersi di bloccarsi ma che cacchio è successo no no ma io odio il lag no in questa settimana laggano cacchio no beh oggi poi laggano ma che due coglioni ma che ma dai non ho neanche visto che mi attaccavano porca merda shit sono rimasti in 6 c'è questo mine ma mamma mia non li ho visti se non c'era il lag fidatevi non li facevo più salire perchè li continuavo ad attaccare con le frecce massimo uscivano da fuori e niente forse uno riusciva a uccidere avevo 20 frecce avevo però a scontro avvicinato avrebbero vinto loro sicuramente guardate come sono equipaggiati guardiamo gli altri come sono equipaggiati ok da questo possiamo capire che è lag visto che non mi ha caricato la mappa guardate questo guardatelo sta volando in basso no quelli muore sicuramente ok vediamo adesso un altro perfetto ho schiacciato il tasto 3 minuti fa guardiamo in un altro su su dai dai mmm che due coglioni ti fa cadere this tribute have passed grande scavatore ah beh si 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 quelli che sono morti ok hanno riempito le ceste che palle potevo vincere beh vincere no anche questo equipaggiato bene ma non ha nessun'arma ha un accendino comunque sono quasi tutti nelle vicinanze dello spawn sono in 5 due sono là uno è uno è la maglia del creeper rossa e l'altro non ho ancora visto penso no niente è impossibile fare un commentare visto che sta laggando quindi vabbè questa volta è andata malissimo vi saluto ciao 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 Grazie.